eccoci allora buongiorno ancora e iniziamo questa mattina come come accennato il nuovo tema sulla ricorsione che la ricorsione è una tecnica diciamo così risolutiva algoritmica che ci permetterà di affrontare delle delle tematiche delle dei tipi di problemi dei tipi di difficoltà che siamo così con i metodi che conosciamo finora non sarebbe possibile trattare o sarebbe molto complicato da trattare dal punto di vista del codice quindi questo è un diciamo così un approccio risolutivo ai problemi molto particolare che non 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 vi nascondo che all'inizio non è affatto semplice da capire sembra quasi di di un serpente che si morde la coda per cui alla fine non riesce a capire dove inizia e dove finisce e quindi faremo dedicheremo parecchie esercizi almeno due settimane piene questa e la prossima prossima ovviamente sarà quella dopo dopo la pausa pasquale dedicheremo dicevo almeno queste due settimane proprio per fare un po' di esercizi per familiarizzarci con l'impostazione della ricorsione che poi ecco come tipica cosa che una volta diciamo così compresa non diventa facilmente diciamo così affrontabile non è molto complicata non bisogna scrivere paginate di codice ma è molto densa cioè ogni istruzione ogni riga ogni operazione ha un suo significato e diciamo così è fondamentale per la buona riuscita dell'algoritmo di che cosa stiamo parlando ma stiamo parlando di strategie risolutive strategie algoritmiche in particolare appunto questa ricorsione che ci permettono di risolvere dei problemi di elevata complessità in alcuni casi anche di elevata dimensione di fatto applicando quello che è un paradigma un po' eh dividi e conquista no il tipico paradigma diciamo così imperiale in cui si si dividono i nemici per poterli conquistare uno a uno e poi riunire l'impero no sotto il segno unico della eh del conquistatore eh adesso al di là del della del paragone militare eh sono tecniche che ci permettono di provare testare verificare tutte le soluzioni possibili in modo sistematico rispetto a un problema dato e anche quello eh che come sottoprodotto che ci permetteranno di costruire delle strutture dati che intrinsecamente internamente siano ricorsive no parleremo di alberi eh e grafi di fatto eh avranno questa caratteristica ma andiamo per gradi eh dicevamo cos'è la ricorsione che cos'è un metodo ricorsivo o una funzione ricorsiva o un programma ricorsivo è un programma in cui eh nell'implementazione nel codice che implementa un metodo supponiamo abbiamo a un certo punto una chiamata al metodo stesso quindi se io ho una funzione diciamo un metodo f a un certo punto dentro l'implementazione del metodo avrò tante istruzioni eccetera eccetera e a un certo punto chiamerò f che ne so con un certo parametro tre supponiamo che sia f di x e poi vado avanti e poi termino la procedura quindi a un certo punto noi abbiamo eh una funzione che fa molte operazioni e tra queste operazioni c'è quella di chiamare altre funzioni ovviamente il caso particolare è che tra le altre funzioni che chiama ce n'è stranamente una coppia di se stessa nuovamente se stessa allora questo può sembrare strano può sembrare quasi vietato no nel senso che se io per definire una funzione chiamo la funzione stessa nell'implementazione nella chiamata di questa funzione chiamerò di nuovo f che poi a sua volta chiamerà f che poi internamente richiamerà di nuovo f che però per essere diciamo per eseguire il codice chiamerà f a sua volta e così via e sembra quasi che ci sia una catena infinita di chiamate e in effetti questo è uno dei rischi se non si implementa bene eh la ricorsione c'è proprio il rischio di costruire delle ehm delle catene infinite di chiamate e quindi di fatto bloccare il programma su non è più un loop infinito ma è una sequenza infinita di chiamate eh vedremo ovviamente come evitare questo problema e come sfruttarlo diciamo così a nostro a nostro favore ehm ovviamente la ricorsione può essere diretta o può essere indiretta cioè nel senso che magari o pardon eh magari f non chiama direttamente f ma f chiama g la quale chiama h la quale chiama di nuovo f ovviamente non importa che la chiamata da f sia proprio direttamente dentro il corpo dell'implementazione del metodo f può essere ovunque in una funzione che a sua volta è chiamata da f quindi una funzione che direttamente oppure alla lunga indirettamente chiama la funzione stessa eh qualunque algoritmo eh diciamo così che contenga il suo interno una sua implementazione una funzione di tipo ricorsivo lo chiamiamo anche lì algoritmo ricorsivo no? Qui ci sono alcuni esempietti eh chiaramente questo effetto qua l'avete già visto molte volte eh dove un'immagine contiene se stessa che contiene una versione rimpicciolita di se stessa e così via e quindi di fatto per definire l'immagine in una delle parti devo inserire l'immagine stessa no? Quindi questo è un esempio eh classico visivo di di ricorsione ehm e purtroppo noi oggi ci troveremo a un certo punto diciamo in questa situazione in cui alla fine sembra che non riusciamo a capire nulla finché non abbiamo capito qualcosa ehm eh questa è una situazione abbastanza comune a ingegneria eh in particolare ricorsione diciamo così la la evidenzia eh diciamo così un po' più in o più rispetto alle altre materie. Ok. Eh l'esempio classico che si fa eh una procedura ricorsiva è eh ad esempio il calcolo del fattoriale. Il calcolo del fattoriale ve l'hanno rifilato diciamo così sin dall'analisi uno dandovi spesso una definizione che se stessa era ricorsiva no? Ti diceva guarda per definizione il fattoriale di zero vale uno. È una definizione non discutiamo se tranquilli ce la portiamo a casa. Ma poi ci hanno anche detto per ogni n che sia maggiore o uguale a uno tu puoi definire ma questa è una definizione che il valore di n fattoriale si può calcolare come va n moltiplicato il valore del fattoriale di n meno uno. Quindi praticamente per dirci che cos'è il fattoriale abbiamo usato un'espressione che al suo interno contiene nuovamente il fattoriale. Sembra quasi che non abbiamo fatto nessun passo avanti. Ok. Per spiegarmi cos'è il colore giallo mi dici che è qualcosa che è tinto di giallo. Va bene non ho mai detto nulla. No in realtà qualcosa mi hai detto. Mi hai detto come fare a calcolare il fattoriale di un valore n conoscendo però il fattoriale di n meno uno. Quindi un altro valore del fattoriale. Un altro che è più semplice perché n meno uno è minore di n. Quindi io sembra che non abbia fatto nulla. In realtà ho ricondotto un problema di difficoltà n cioè il fattoriale di n a un problema di difficoltà n meno uno. Allora a questo punto capiamo che se iteriamo questa procedura prendendo il fattoriale di n meno uno lo potrò definire come n meno uno che moltiplica il fattoriale di n meno due e quindi mi sono ricondotto a un problema ancora più semplice. A calcolare un valore ancora più semplice. E così via potrò ogni volta che applico questa definizione portarmi su un problema che è un pochino più semplice di quello di prima. Fino a quando perseverando riuscirò a trovare un problema che è talmente semplice zero che il cui risultato mi viene dato direttamente dalla definizione. Quindi questo è il trucco. Io prendo un problema e lo trasformo riconducendolo a un problema uguale cioè della stessa natura ma più piccolo. Allora a questo punto se ho un meccanismo generale per prendere un problema e ricondurlo a un problema più piccolo dello stesso tipo il fatto che sia dello stesso tipo significa che posso riapplicare lo stesso metodo e prendere questo problema più piccolo e ricondurlo a un altro problema ancora più piccolo e ancora sempre dello stesso tipo. Ovviamente servono entrambi gli ingredienti. Il problema a cui mi riconduco deve essere più piccolo perché altrimenti se lo vado a complicare chiaramente mi andrò verso complessità sempre maggiore e non lo risolverò mai ma ogni volta deve essere più semplice e dello stesso tipo perché solo se è dello stesso tipo posso riapplicare questo metodo ricorsivamente successivamente nei passaggi successivi. Ecco questa stessa cosa che abbiamo visto dal punto di vista matematico dal punto di vista informatico del codice lo vediamo facilmente riassunto in questo in questo codice che potrebbe essere un metodo di una qualunque classe in cui si vede che io definisco una funzione fattoriale calcolata in modo ricorsivo che prende un parametro n e al suo interno si dice guarda il risultato sarà ottenuto calcolando il fattoriale di n meno 1 e poi il risultato che ottieni col fattoriale lo moltiplichiamo per n quindi è la traslazione in questo caso diretta della formula matematica. Questo nel caso diciamo così generale ma poi c'è un caso particolare che è il caso in cui n vale 0 e noi chiameremo il caso terminale della ricorsione in cui non ho più bisogno di decomporre il problema in problemi più piccoli perché il problema è già sufficientemente semplice di per sé e quindi ti so dire a colpo d'occhio direttamente qual è il risultato. È fondamentale che in qualunque tipo di ricorsione siamo capaci di identificare e trovare un caso terminale perché altrimenti la ricorsione veramente andrebbe avanti all'infinito cioè ciò che ci salva dal fatto di non andare avanti all'infinito è proprio il fatto che a un certo punto quando n vale 0 non passo più da questa parte qua in cui avviene la ricorsione ma ti restituisci il risultato in modo normale senza più fare chiamate ricorsive. Nell'esecuzione di questa di questa funzione cosa succede? Succede supponiamo di voler calcolare il fattoriale di 4 ok? Solo per brevità chiamiamola rf questa funzione ricorsive factorial quindi qualcuno mi chiede di calcolare x uguale rf di 4 ok cosa fa questo codice? Questo codice esegue la funzione rf controlla che n se n uguale a 0 no perché n è uguale a 4 nel nostro esempio abbiamo passato 4 come parametro e quindi farà queste due le righe successive ok? La parte di codice successiva qua e come prima operazione quello che fa è calcolare result uguale rf di 3 ok? Quindi dentro l'implementazione di questa rf di 4 a un certo punto chiamo rf di 3 qui adesso faccio un atto di fede facciamo finta per il momento che rf non sia una funzione ricorsiva ma sia un'altra funzione che mi calcola il fattoriale di 3. Se fosse una funzione normale io direi qua va bene a un certo punto il risultato qui sarà 3 per 2 per 1 6 quindi avrò che result uguale 6 allora eseguirò l'istruzione successiva che è result uguale n che vale 4 per il valore precedente di result che vale 6 quindi il risultato sarà 24 e ritorno 24 ok? Quindi cosa ho detto? Ho detto che se rf di 3 funziona correttamente allora rf di 4 funziona cioè mi ha calcolato il risultato giusto e l'ho visto passo passo adesso la complicazione è che rf di 3 a sua volta non è una funzione qualsiasi che mi restituisce il fattoriale di 3 ma è di nuovo sempre la mia stessa funzione allora cosa farà questa rf di 3? Allora se io calcolo rf di 3 adesso vado a vedere dentro cosa succede lei farà innanzitutto result uguale rf di 2 e aspetterà che rf di 2 restituisca il risultato quindi in pratica se noi siamo arrivati a questo punto se andassimo avanti passo passo vedremo che qualcuno mi ha chiamato la funzione rf col parametro 4 questa funzione chiamerà rf col parametro 3 ok? Allora attiviamo la funzione rf col parametro 3 e vediamo che come prima cosa questa funzione chiamerà rf col parametro 2 e allora da un'altra parte ci sarà una chiamata di rf col parametro 2 che chiamerà result uguale rf col parametro 1 e il codice sarà qui fermo in esecuzione in questo punto in attesa che la funzione rf di 1 venga calcolata dopodiché verrà restituito rf di 2 quando rf di 2 ritorna ritorna qua quando calcola il risultato poi farà ancora delle operazioni dopodiché restituirà rf di 3 che finalmente tornerà sopra quindi quello che prima abbiamo detto facciamo un atto di fede pensiamo che rf di 3 calcoli qualcosa di giusto in realtà sì va bene ma se andiamo a vedere dentro rf di 3 non può ritornare non può calcolare il risultato fino a quando rf di 2 non ha calcolato il risultato rf di 2 chiamerà nuovamente rf di 1 e quindi non potrà ritornare il risultato fino a quando rf di 1 non avrà essa stessa fornito un risultato chiaramente rf di 1 molto facile no c'è ancora 0 quindi avrò ancora me lo scrivo qua rf di 1 che calcolerà result uguale rf di 0 dopodiché rf di 0 finalmente cade nel caso terminale in cui fa il return 1 chiaramente quando n è uguale a 0 ricado nel caso terminale e quindi restituisco questo famoso 1 allora quando rf di 0 viene eseguita ritorna 1 questo risultato rf di 0 vale 1 e quindi posso ritornare a brevio che cosa n che valeva 1 per il risultato precedente che valeva 1 cioè 1 e allora una volta che ho fatto questo posso tornare la chiamata rf di 1 è terminata posso tornare la chiamata rf di 2 che stava aspettando il risultato di rf di 1 la quale calcolerà e ritornerà che cosa il risultato di n che è 2 moltiplicato rf di 1 che è 1 quindi il risultato di questo sarà 2 finalmente rf di 2 termina e quindi posso tornare in questo punto in cui stavo aspettando che rf di 2 terminasse e avrò dovrò ritornare che cosa 3 che è il valore di n moltiplicato 2 che è il valore di rf di 2 cioè 6 e 6 è proprio il valore che avevamo prima ipotizzato che rf di t fosse in grado di ritornare quindi ogni volta una funzione quando chiama a se stessa è come se aprisse un nuovo ambito perdon un nuovo ambito questo ambito qua in cui viene calcolato rf di 3 è separato da questo ambito in cui viene calcolato rf di 2 che è separato da quest'altro ambito in ciascuno di questi ambiti c'è un valore di n diverso c'è un valore di result diverso quindi tutti i parametri della funzione e tutte le variabili locali in ogni chiamata ricorsiva sono diverse cioè ciascuna chiamata della funzione ha una copia propria privata di queste variabili degli argomenti della funzione e delle variabili locali noi siamo abituati quando io chiamo una funzione questa si prende le sue variabili però noi siamo abituati normalmente che una funzione la chiamo una sola volta poi aspetto che ritorni poi ne chiamerò un'altra e così via qui invece la stessa funzione viene chiamata più volte ecco tutte queste varie chiamate sono tutte indipendenti l'una dall'altra nel senso indipendenti nel senso che ciascuna ha i propri valori quindi non dobbiamo confonderci quanto vale n? non so dipende di quale funzione stiamo chiamando parlando di rf di 4, 3, 2, 1 quale chiamata se ci stiamo riferendo quindi mentalmente noi dobbiamo abituarci a vedere una funzione ma di fatto immaginarcela stratificata con uno stack di tante chiamate una sull'altra la più recente sarà quella relativa al problema più piccolo la più anziana cioè la prima chiamata è quella relativa al problema originario che poi ovviamente sappiamo che il risultato fa 24 questo per carità è un problema semplicissimo noi non risolveremo mai se dovessimo calcolare un fattoriale in questo modo ricorsivo perché basta un ciclo foro in cui facciamo le moltiplicazioni ovviamente però in generale il ragionamento che faremo è lo stesso è un ragionamento di tipo divide timpera come dicevamo prima perché prende un problema complesso, grande lo divide in problemi più piccoli con queste due caratteristiche che dicevamo simile a quello di partenza ma più piccolo quindi ho fatto questa operazione di scomposizione di un problema poi risolvo il problema più piccolo delegando chi? delegando una copia di me stesso quindi ricorsivamente una copia della mia stessa funzione che debba risolvere il problema e poi però attenzione una volta che ho risolto il sottoproblema non ho finito perché a me hanno chiesto di risolvere il problema in originario quindi dopo che ho risolto il sottoproblema devo in qualche modo ricombinare la soluzione del sottoproblema chiamiamola soluzione parziale per ottenere con altre informazioni magari altre combinazioni ma altre soluzioni di altri problemi parziali per ottenere la risposta al problema originale cioè qua dopo che ho finito la chiamata ricorsiva devo ancora fare una moltiplicazione cioè il risultato del sottoproblema non è da solo il risultato del mio problema il risultato di RF di 2 non è il risultato di RF di 3 devo fare un'operazione che prende il risultato calcolato per il sottoproblema e lo trasformi nel risultato del problema più grande diciamo così che sto cercando di affrontare questo del fattoriale è un caso molto particolare di solito quando io devo spezzare un problema lo spezzerò non in un sottoproblema più piccolo ma lo spezzerò in 2, 3, 4 n sottoproblemi più piccoli quindi non è detto che ci sia un solo sottoproblema per ogni chiamata ma questo lo vedremo concettualmente non cambia nulla ma poi praticamente significa che avrò tante piccole soluzioni e dovrò in qualche modo metterle insieme e ricombinarle questo è un altro passo importante quindi questo è un altro modo di ridefinire la ricorsione quindi prendi un problema P lo dividi in tanti sottoproblemi Q Q1, Q2, Q3, Q4 più semplici e dello stesso tipo questi sono i due ingredienti chiave risolvi ciascuno di questi QI e risolvi ciascuno di questi QI può voler dire usa lo stesso metodo che avevi chiamato per cercare di risolvere il problema originario e qui ci sta la ricorsione e poi unisci le soluzioni questo passo di unire non ce lo dobbiamo dimenticare ci concentriamo tanto sulla ricorsione ma poi dobbiamo ricordarci anche di unire soluzioni questa è l'idea generale questo meccanismo che cosa ci permette di fare? ci permette di fatto di esplorare tutte le possibili soluzioni a un determinato problema se mi dicono guarda che tu devi trovare che ne so facciamo un esempio di un problema che non possiamo mai risolvere una mossa da giocare nel gioco degli scacchi allora quello che devi fare è trovare qual è la prossima mossa migliore e quindi ci sono tante possibilità ma dietro a ciascuna di queste possibilità devi trovare qual è la contromossa migliore che il tuo avversario potrebbe fare e quindi per trovare la mossa migliore la prima mossa migliore devi sapere qual è la seconda mossa migliore e per sapere quale sia la migliore tra le seconde mosse dovrai almeno sapere qual è la terza mossa che viene fatta e così via e allora ho un meccanismo generale che mi permette di esplorare l'albero di tutte le mosse possibili adesso non lo faremo mai negli scacchi perché questo albero cresce vertiginosamente in fretta e quindi non ce la faremo mai diciamo così a gestire problemi di questa complessità però l'idea c'è dobbiamo trovare tutte le combinazioni di elementi dobbiamo trovare tutte le permutazioni di elementi dobbiamo trovare tutti i cammini possibili ecco sono tutti problemi in cui sappiamo come deve essere fatta una soluzione e vogliamo provarle tutte per trovare quale sia quella migliore o quella che soddisfa un certo criterio quindi il meccanismo ricorsivo spesso viene usato proprio come meccanismo generativo per generare tante soluzioni possibili così poi le vado a vedere una a una e vedo qual è quella migliore a livello di codice ci daremo uno schema che è praticamente sempre questo una variante di questo per impostarlo adesso qui sto cercando di generalizzare non solamente il fattoriale ma in generale a livello di codice questa idea del dividi e conquista questa idea di esplora e sottoproblemi come la implemento allora supponiamo che la nostra procedura ricorsiva sia questa qua risolvi questo solve che riceve come parametro un problema quindi il chiamante qua ci dice senti io ho un problema tu risolverlo e dammi la soluzione eh bravo te proviamoci allora la mia procedura risolvi cosa fa? beh implementa la strategia che abbiamo detto divide il problema originario in tanti sottoproblemi io qua banalmente ho detto facciamo finta di avere una lista di sottoproblemi ok poi molto spesso questa lista non sarà mai esplicita ma sarà dentro un ciclo in cui vengono generati ma questo lo vedremo esempio per esempio caso per caso questo è uno schema generale ma poi in ogni caso dovremmo capire come è rappresentato come è codificato il problema proprio a livello di variabili e quindi ho questi sottoproblemi ne prendo uno per volta ciascun sottoproblema il sottoproblema 0 il sottoproblema 1 il sottoproblema 2 e così via ne prendo uno per volta ciascuno di questi lo risolvo come? chiamando la funzione che è capace a risolvere quel tipo di problemi questa funzione guarda caso sono sempre io però qua sta l'idea della ricorsione io delego a qualcun altro di risolvere un problema e questo qualcun altro sono sempre io o meglio una copia di me stesso che viene messa un po' più in là che avrà le sue variabili avrà il suo scopo eccetera eccetera questa copia di me stesso risolverà il problema e io in questo momento devo fermarmi qua devo dire ok io so che questa funzione risolve il problema come lo faccia per il momento non mi interessa io poi lo so che per farlo lei a sua volta lo decomporrà ulteriormente e poi richiamerà di nuovo solve che poi lo decomporrà però se ci penso in questo momento mi perdo non ci capisco più niente allora quando io sto risolvendo un problema a un certo livello chiamo la procedura di risoluzione la procedura ricorsiva a livello successivo fidandomi che questa funzioni ok io sto dicendo se mi posso fidare che questa funziona con un problema di dimensione 5 allora io so risolvere un problema di dimensione 6 punto poi sarà il problema di quella di dimensione 5 che dice beh io se posso fidarmi che questa è in grado di risolvere un problema di dimensione 4 allora io saprò risolvere quello di dimensione 5 però dobbiamo sempre solo vedere una fetta per volta altrimenti non riusciamo a capirci più nulla qui noi quando implementiamo la risoluzione per un certo problema supponiamo che questa funzione di risoluzione per il problema più piccolo funzioni punto ci penserà lei l'importante fondamentale è che io passi a questa funzione che posso sempre io sempre la stessa ma facciamo finta di no un problema è che sia più piccolo del mio in modo che ad ogni chiamata il lavoro si semplifichi perché altrimenti se il problema rimane sempre della stessa dimensione allora si si che va davanti all'infinito ok e quindi chiediamo a quest'altra funzione che sono sempre io di risolvere ciascuno i sottoproblemi qui sono dentro un for perché se ho dieci sottoproblemi ovviamente questa chiamata andrà fatta dieci volte su ciascuno dei dieci sottoproblemi poi che cosa sono questi sottoproblemi lo vediamo attraverso gli esempi e alla fine quindi avrò tante sottosoluzioni tante soluzioni parziali io ho fatto finta di metterle in un array e queste soluzioni in qualche modo vengono ricombinate per trovare la soluzione originaria che posso restituire al mio chiamante quindi questo ultimo passo tra virgolette è facile nel senso che ho tutte le varie soluzioni parziali e in qualche modo le metto insieme e come le metto insieme dipende chiaramente dal problema che sto risolvendo quindi ho due passi locali cioè prendi un problema e dividilo e prendi le soluzioni e ricombinale questo lo devo fare nel mio codice e poi un passo ricorsivo che è una volta che hai sotto problemi chiama la procedura risoluzione chiama la procedura ricorsiva per ottenere le sottosoluzioni questi tre ingredienti ci sono sempre dividi un problema quindi trova come far decomporre in un problema uno o più problemi più semplici risolvilo e ricombina le soluzioni ovviamente tutto il lavoro viene fatto qua nel risolvi ma noi non ce ne accorgiamo perché il risolvi viene fatto in un'altra coppia di noi stessi ok ciò di cui ci dobbiamo preoccupare noi soprattutto è di come fare a dividere e come fare a ricombinare le soluzioni nel nostro codice adesso definiremo poi ci servirà più avanti ma la prossima settimana che quando abbiamo questa divisione abbiamo il problema originario che viene diviso in tanti sottoproblemi chiameremo A il numero di sottoproblemi in cui viene diviso e ciascuno di questi problemi è B volte più piccolo del problema originario ok possiamo dire che se io divido un problema esattamente in due avrò due sottoproblemi ciascuno dei quali due volte più piccolo però magari non sempre riesco a dividere esattamente a metà e quindi magari avrò due sottoproblemi ciascuno dei quali è solo una volta e mezza più piccola oppure avrò tre sottoproblemi ciascuno dei quali è la metà di partenza oppure avrò n-1 problemi ciascuno dei quali è n-1 volte più piccolo di quello di partenza l'importante è che questo B il numero di la dimensione di sottoproblemi sia maggiore di 1 quindi sia più piccolo e allora così si converge si convergerà più o meno rapidamente chiaramente a seconda del rapporto tra A e B noi abbiamo fatto nel laboratorio scorso la ricerca dicotomica la ricerca dicotomica può essere impostata in questo modo in cui tu dici che ogni volta che ho un vettore andando a leggere il valore medio e quindi un'operazione di divisione questa di fatto leggo il valore medio e divido il vettore in due e quindi in quel caso ho un sottoproblema perché delle due metà di vettore una non la guardo neppure l'altra la considero di due volte più piccolo di quello originale quindi in quel caso si sarebbe potuto implementare alla ricerca dicotomica anche con un meccanismo ricorsivo dove vedevo che ad ogni livello io avevo un sottoproblema solo cioè dato il vettore di 100 il sottoproblema è analizzare un vettore di 50 e il sottoproblema a sua volta ha una difficoltà esattamente a metà di quella di partenza questo è il caso ideale che ti dà un tempo di risoluzione di tipo logaritmico non sempre siamo così fortunati anzi però dobbiamo ricordarci attenzione che l'algoritmo ricorsivo così come l'abbiamo scritto non può funzionare perché andrebbe avanti all'infinito noi dobbiamo garantire la terminazione e quindi dobbiamo riuscire a inventarci per ogni tipo di problema ricorsivo una condizione di terminazione almeno una ok una condizione di terminazione che chiamata dopo chiamata dopo chiamata dopo chiamata se hanno ideato l'uno dentro l'altro a un certo punto c'è una chiamata che dice oh ma guarda questo problema è talmente semplice che non c'è bisogno a sua volta di comporlo nell'altro sottoproblemi zero fattoriale fa uno per definizione un vettore di un elemento se sto cercando facendo la ricerca dicotomica o vale l'elemento che stavo cercando o non lo è non devo fare ancora dividerlo ce n'è uno solo lui è o è lui o non è lui ok quindi arriverò sempre a un caso in cui il problema è abbastanza piccolo ad esempio avrò un elemento nell'insieme o addirittura in alcuni casi zero elementi non ho più niente da fare e lì mi fermo chiaramente oppure magari il problema è piccolo e uso un metodo diverso rispetto alla ricorsione vi ricordate quando facevate algebra lineare dovevate calcare i determinanti delle matrici allora il determinante della matrice 5 per 5 si calcola scelgo una riga della matrice moltiplico ciascun valore di questa riga per il determinante della matrice ridotta che si otteneva cancellando la riga alla colonna scusate se vi scavo nei ricordi dolorosi del passato allora in questo caso per calcolare il determinante 5 per 5 devo essere capace a calcolare ricorsivamente il determinante 4 per 4 e a sua volta per ciascuno di questi determinanti 4 per 4 devo essere capace a calcolare il determinante 3 per 3 e così via però magari il 2 per 2 non applico questo metodo sì funzionerebbe anche eccessivamente complicato per fare il determinante di una matrice 2 per 2 basta semplicemente moltiplicare le diagonali tra di loro e sottrarre il valore quindi in questo caso non arrivo a un problema che sia collassato in una matrice 1 per 1 0 per 0 mi fermo prima quando il problema è abbastanza semplice da poter essere risolto con i metodi diversi dalla ricorsione cioè io con il 2 per 2 lo so risolvere a mano ok quello 8 per 8 no e allora applicerò un metodo ricorsivo che mi permette di decomporre con tanta fatica con tanta ramificazione di alternative un 8 per 8 in 7 per 7 poi 6 per 6 eccetera eccetera fino a quando non troverò il 2 per 2 che so risolvere quindi un metodo di riduzione di un problema non noto a un problema noto a una soluzione nota quindi di fatto i casi terminali sono di questo tipo o lo vedo a occhio perché il problema praticamente si è esaurito oppure lo so risolvere in un modo diverso che non richiede appunto chiamate ricorsive quindi questo dobbiamo sempre farlo e quindi rispetto al codice di prima questo slide è uguale a quello di prima con in più ho aggiunto un pezzo davanti quindi la parte sotto questa qua due recursion è esattamente la stessa la parte sopra l'ho aggiunta prima vedete che c'è qua c'è un else bloccante qui prima di fare tutto il approccio ricorsivo dividi risolvi e combina prima controllo se il problema sia sufficientemente piccolo da poter essere risolto senza ricorrere alla ricorsione qui dico il problema è banale se il problema è banale lo risolvo senza scomodare il meccanismo della ricorsione se il problema non è banale vabbè allora dovrò eseguire la ricorsione e ricondurmi ad altri sottoproblemi quindi io devo essere a sicuro di ricordarmi di pensare dei casi particolari e essere sicuro di arrivarci a questi casi particolari sono sicuro di arrivarci ovviamente se effettivamente con l'operazione di divide il problema diventa sempre più piccolo fino a quando davvero trovo un problema che so risolvere sopra quindi devo garantire di arrivarci prima o poi nella condizione di terminazione e non inlupparmi mai in una ricongosione infinita quindi in realtà prima avevo detto che avevamo tre passi dividi dividi ricorsione e combina in realtà ce n'è un quarto che è altrettanto importante caso terminale caso terminale vuol dire capire se sono in un caso terminale e allora a questo punto come lo risolvo in questo caso questo codice è codice normale il codice non ricorsivo allora c'è una domanda di Manuel nella chat che mi chiede perché risolviamo tutti i problemi i sottoproblemi insieme se poi ogni sottoproblema avrà magari dei sottoproblemi comuni a quello di livello superiore e poi fai l'esempio delle matrici allora sì quello che dici tu è vero nel senso che c'è il rischio che quando io trovo un sottoproblema che ho ottenuto attraverso un sottoproblema precedente questo sottoproblema sia identico a un altro sottoproblema che avevo già risolto da un'altra parte questo è possibile e facendo in questo modo come stiamo facendo di fatto risolviamo tante volte lo stesso sottoproblema quindi questo è un problema di efficienza chiaramente e allora ci sono due modi per cercare di evitarlo uno è cambiare il metodo di decomposizione in modo da cercare di arrivare a dei sottoproblemi che siano sempre diversi quindi riconoscere che magari non lo stiamo decomponendo in modo giusto non sempre si può fare l'altro è quello di in qualche modo salvarsi i risultati di sottoproblemi ok e quindi dire qua qua in mezzo se l'ho già visto allora conosco return la soluzione return della soluzione che ho già visto c'è di fatto mi faccio una sorta di tabella di hash che si ricorda tutti i problemi che ho già affrontato e tutte le soluzioni che ho ritornato allora prima di fare il lavoro vero vado a vedere per caso questo problema già la soluzione di questo problema già la conosco se sì ce l'ho in questa tabella si chiama programmazione dinamica questa tecnica in cui uno man mano che va avanti si salva da parte dei risultati parziali con la speranza di poterli riutilizzare più avanti quindi in alcuni casi si può fare però non cambia la struttura generale ok il bello della ricorsione è che è complicata da capire ma è una struttura molto semplice molto lineare cioè brutta forza vado giù divido ed eseguo poi per rendere efficiente si possono aggiungere tutta una serie di miglioramenti appunto quello di evitare di scendere sotto problemi già visti quello magari di cercare di risolvere prima sotto problemi più facili e dopo quelli più difficili insomma c'è tutta una serie di euristiche che chiaramente si aggiungono rispetto a questo scheletro base l'importante dobbiamo porci sempre e separare bene due problemi la correttezza dall'efficienza prima lo faccio corretto lo faccio funzionare semplice ma giusto semplice come codice magari meno efficiente ma questa è la mia prima priorità faccio in modo che l'algoritmo calcoli la soluzione ok poi quando mi accorgo che questo algoritmo fosse eventualmente troppo lento per me cerco di capire come ottimizzarlo e allora vado a capire quali sono i punti in cui sto sprecando diamo così i calcoli come quello che ci accennava Manuel tipo i sottoproblemi possono essere ripetuti questo esempio è tutt'altro che che è accademico fatemi prendere un esempio che ho più avanti noi abbiamo visto dove è andato scusatemi avevo un esempio più avanti lo sto cercando nella slide che era quello di dicotomica no allora si vede che l'avevo tolto proprio perché non mi piaceva eccolo qua noi abbiamo fatto abbiamo visto i problemi i problemi i problemi del fattoriale ok allora uno può dire ah beh allora ci sono altre altre formule matematiche in cui posso applicare la stessa idea quindi ad esempio i numeri di Fibonacci riconoscete sono 0 1 poi faccio 0 più 1 1 1 più 1 2 1 più 2 3 2 più 3 5 3 più 5 8 8 più 5 13 e così via cioè ogni numero è uguale alla somma dei due precedenti ok li posso definire così come ho detto la definizione qual è ogni numero è uguale alla somma dei due precedenti quindi il numero successivo n più 1 è uguale alla somma dell'ultimo e del penultimo numero questa sembra proprio la stessa impostazione del problema che avevamo col problema della ricorsione dove ovviamente in caso terminale qua c'erò ovviamente dovendo andare dietro le due posizioni dovrò specificare i primi due valori che sono 0 e 1 allora posso fare una funzione ricorsiva uguale a quella che abbiamo prima impostato sul fattoriale quindi casi particolari se 0 se 1 so già quanto vale per definizione altrimenti calcolerò il Fibonacci del precedente e di quello prima ancora e poi faccio la somma di questi due valori ok e quindi questo è giusto mi calcolo il valore giusto quindi per calcolare Fibonacci di 5 mi calcolerò separatamente due sottoproblemi Fibonacci di 3 e Fibonacci di 4 e basta e poi faccio la somma punto per calcolare Fibonacci di 3 cosa devo fare? ebbè per calcolare Fibonacci di 3 calcolerò Fibonacci di 1 e Fibonacci di 2 e poi farò la somma punto per calcolare Fibonacci di 1 sono nel caso terminale quindi non faccio ricorsione per calcolare Fibonacci di 2 calcolerò Fibonacci di 0 più e virgola Fibonacci di 1 e poi farò la somma ovviamente sia qua che qua mi troverò nel caso terminale e va bene se vado avanti però nel ramo destro per calcolare Fibonacci di 4 devo calcolare Fibonacci di 3 e Fibonacci di 2 per definizione però se guardate tutto questo ramo qua fa del lavoro fa un calcolo che è esattamente uguale a questo questi due sono uguali allora se non me ne accorgo che sono uguali se non ci penso che sono uguali farò il lavoro due volte se invece mi accorgo che sono uguali allora posso dire ma guarda tutto questo ramo qua non serve perché questo qui faceva già dunque 0 più 1 fa 2 2 più 1 3 e quindi dico questo qua vale 3 senza più rifare il calcolo ma non solo questo ramo qua ad esempio Fibonacci di 2 è uguale a questo ramo qua sotto che era uguale in realtà già a questo quindi io ritrovo nel fare la ricorsione come diceva Manuel dei sottoproblemi che guarda caso sono la coppia identica del problema di partenza se io non riconosco questa similitudine rischio di fare una quantità di lavoro spropositato infatti non consiglierei a nessuno di risolvere il problema di Fibonacci in modo ricorsivo molto meglio fare un loop semplicemente in cui in un array vado a sommare ogni volta i due valori precedenti non ci verrebbe mai in mente quindi ci sono dei problemi che nonostante la formulazione matematica si prestino ad essere vista in modo ricorsivo non danno non forniscono una soluzione efficiente se implementata in modo ricorsivo perché qua di fatto dividiamo ogni sottoproblema in due problemi due ciascuno dei quali è praticamente grosso come quello di prima e poi sono in realtà molto simili tra di loro allora non è questa traduzione è esatta è corretta calcola il valore corretto ma lo calcola con un'efficienza troppo bassa con un tempo di esecuzione veramente che cresce esponenzialmente poi impareremo la prossima volta a calcolare anche questi tempi di esecuzione ok capire la complessità di procedure ricorsive di questo genere per poi riuscire a evitare i casi in cui la complessità sia troppo elevata sia ingestibile ok quindi questo effettivamente è un problema reale torniamo noi dove eravamo rimasti qua eravamo rimasti a questo codice che è il nostro scheletro di riferimento adesso qui lo possiamo chiamare in modi diversi ma magari ci torniamo dopo allora per fare degli esempi pratici noi ci dotiamo di uno schema molto semplice che però ci guiderà un pochino nel ragionamento ci aiuta a fare il ragionamento perché dato un problema e dico perché magari questo problema va risolto in modo ricorsivo come faccio a spezzare l'analisi del problema per riuscire ad arrivare poi a implementare l'algoritmo quindi la prima domanda è quella più importante cioè come imposto in generale la ricorsione è una domanda un po' vaga però mi sta chiedendo pensa un attimo a come impostarlo a come dividerlo a come spezzare i vari problemi a quali sono questi problemi questi sottoproblemi sono bei termini ci sono riempiti la bocca divide conquista giulio cesare eccetera eccetera ma va bene un po' in pratica io devo calcolare che ne so i lanci dei dadi oppure devo calcolare le mosse del monopoli oppure devo calcolare la catena del domino è ok se è un problema pratico da risolvere devo trovare una parola sul crucipuzzle per dire allora questo è il mio problema come faccio a trovare i sottoproblemi quali sono come vengono fatti allora questa è la prima domanda darci un'idea questa ricorsione per aiutarci a capire come impostarla ovviamente dobbiamo sempre pensare a livelli cioè o un problema di un certo livello o un sottoproblema di livello successivo o inferiore e un altro sottoproblema e così via allora che cosa sono questi livelli la lunghezza della sequenza il numero di mosse il numero di vicini di elementi vicini che sto analizzando eccetera eccetera e questo livello è un valore che mi dice quanto sto andando avanti quanto sto andando avanti nel costruire una cosiddetta soluzione parziale cioè man mano che vado avanti troverò aggiungerò dei pezzettini di soluzioni parziali fino a quando non arriverò alla soluzione totale la ricorsione è bella perché mi dà un metodo costruttivo di trovare una soluzione non è un metodo matematico perché mi dice alla fine la soluzione esiste ma nel lavorare in ogni chiamata ricorsiva aggiungi un ingrediente che nel caso quando arriverò nel caso terminale avrà completato la ricetta avrà completato la soluzione del problema a meno della ricombinazione che faccio tornando indietro quindi in pratica le domande che ci faremo sono queste se sono in un determinato livello corrente se sono in un determinato livello come faccio a generare tutte le soluzioni del livello successivo per ora segniamoci queste domande poi le ripercorriamo su degli esempi concreti ok quindi questa è la domanda principale cioè come faccio a impostare la ricorsione cioè la parte generativa ricordate che c'è la dividi solve e ricombina solve è facile perché è sempre lui basta chiamare me stesso dividi è la parte difficile la parte creativa devo inventarmi come dividerlo ok quindi questa è la domanda e per capirlo più semplicemente devo sempre mettermi ricordavate tra un livello e quello successivo non devo andare a guardare sotto cosa succede se no mi perdo quindi se io mi hanno dato un problema di dimensione 3 come faccio a risolvere il problema a ricondurre un problema di dimensione 2 ne cado la matrice ricordate la determinante vado a fare le ridotte e ciascuna di queste sarà un sottoproblema dopodiché la procedura ricorsiva mi calcolerà delle soluzioni e queste soluzioni possono essere o delle soluzioni cosiddette parziali cioè soluzioni che devono ancora essere raffinate ricombinate o ancora diciamo come fare ancora chiamate ricorsive eccetera o magari sono già soluzioni complete se io ho un problema di ricerca pensate alla ricerca dicotomica per farla semplice io so che un vettore da 1000 elementi deve essere diviso 10 volte 2 alla 10 fa 1024 ok e quindi imposterò una ricorsione che so che avrà 10 livelli al primo livello il vettore al secondo livello avrò metà del vettore al terzo livello avrò un quarto del vettore e così via ma se io al secondo passo già trovo l'elemento perché sono stato fortunato mi posso fermare non sono obbligato ad andare fino in fondo nella ricorsione fino a trovare il vettore di dimensione 0 dire l'altro elemento non c'è oppure quello di dimensione 1 per dire ti ho trovato ti ho già trovato prima quindi ci sono dei casi in cui la soluzione la potrai anche trovare prima di arrivare fino in fondo ok e poi c'è un altro problema pratico dell'avvio della ricorsione stessa noi avevamo scritto c'è Sancavata dicendo ok c'è qualcuno era qua qualcuno chiama il metodo solve ci accorgeremo che in realtà il metodo solve ha bisogno di una certa serie di parametri per poter lavorare e quindi qualcuno gli devi preparare questi parametri ok quindi l'avvio la creazione l'impostazione delle strutture dati che descrivono il problema generale nel caso del fattoriale era semplicemente un numero n quindi non c'era bisogno di fare nulla però visto che avrò poi delle liste delle strutture dati avrò in modo dovrò prepararle correttamente per poter avviare la ricorsione ma questi sono problemi più pratici proprio di codice e poi avrò dovrò capire come rappresentare il problema in Java nelle sue strutture dati e la soluzione sempre nelle strutture dati Java e questo chiaramente dipende tantissimo dal tipo di problema che sto risolvendo molto spesso ci troveremo ad avere una lista di elementi in cui via via cerchiamo di aggiungere ogni volta che andiamo avanti una ricorsione ok noi avremo una ricorsione in cui diciamo che partiamo dal livello 0 poi la prima chiamata sarà al livello 1 la seconda chiamata sarà al livello 2 la terza chiamata sarà al livello 3 e ad ogni livello nuovo aggiungiamo pezzettini alla soluzione che stiamo costruendo quindi una struttura dati in cui andiamo ad accumulare le parti della soluzione le soluzioni parziali in modo che quando arriveremo al caso terminale avremo la soluzione completa chiaro che qua dobbiamo inventarci magari saranno delle array list in cui aggiungo degli elementi o altri tipi di strutture dati una mappa in cui faccio put oppure cancello metto e tolgo degli elementi e così via e ovviamente poi ma di nuovo questa slide qua si capisce meno delle altre fino a quando non entriamo nel codice il fatto che possono esserci delle soluzioni che non sono valide ok pensate ad esempio al movimento di un pezzo su una scacchiera un pezzo si può magari muovere in una griglia su quattro direzioni diverse ok ma però magari c'è una mossa che è vietata perché magari in questa posizione c'è già un altro pezzo e quindi questa soluzione possibile non è valida oppure va fuori dalla scacchiera oppure sarebbe sotto scacco per dire verrebbe mangiata un altro pezzo quindi una soluzione che non è accettabile non è possibile non è permessa ok quindi non è detto che tutte le soluzioni che posso generare siano tutte ugualmente valide ce ne saranno alcune che sono da scartare e scartare magari prima di essere arrivato fino in fondo la soluzione beh tutto questo ramo di soluzioni non mi interessa perché se mettessi quell'elemento lì non andrebbe bene ok quindi se riesco e questo è un grosso vantaggio se riesco a identificare il prima possibile che è una soluzione parziale un sotto problema non è valido non è risolubile perché viola qualche vincolo ecco io mi sono posso bloccare lì la ricorsione e evitare di scendere diciamo così in tutte le possibili casistiche della soluzione di quel sottoproblema lì quindi devo avere un metodo tra l'altro più veloce possibile più rapido possibile perché sono dentro una chiamata ricorsiva che viene chiamata un numero di volte se ci fate caso esponenziale perché ogni chiamata ne fa n altre e ogni sottochiamata ne fa a sua volta n meno uno altre e così via quindi il numero di chiamate totale tende a essere esponenziale e quindi ogni operazione che faccio lì dentro pesa costa anche un'operazione che sembra semplice però se la faccio in modo poco efficiente questo piccolo rallentamento di microsecondi viene moltiplicato per centomila chiamate e comincia a pesarvi quindi bisogna essere efficienti nell'implementare il codice all'interno della procedura ricorsiva e quindi anche un check di validità dovrà essere fatto nel modo più veloce possibile ma soprattutto nel modo più efficace possibile per identificare i veri casi in cui posso fermare in anticipo la ricorsione però questo se vogliamo è un'aggiunta che possiamo fare dopo prima ci accorgiamo che la soluzione non è accettabile meglio è ma in ogni caso lo dobbiamo sempre verificare quando abbiamo di fronte la soluzione completa questo sì cioè possiamo per assurdo accettare di andare avanti con dei problemi non validi che violano le regole ma quando poi arriverò al caso terminale no lì non posso più dire ma sì ma questa è la soluzione ma magari non è valida no no se non è valida non è valida quindi sul caso terminale devo se ho dei controlli di validità li devo fare sui casi parziali quindi su tutti i livelli intermedi se riesco a farli sto guadagnando efficienza e poi ci sono dei problemi quando ho trovato finalmente una soluzione completa quindi non devo più fare ricorsione perché ho la soluzione valida perché ha verificato tutti i codici che tutti diciamo così i criteri che doveva avere allora cosa devo fare? beh la prima possibilità è ne ho trovata una mi fermo ricerca di cotomica trovato l'elemento mi fermo magari ce ne sono altri cinque elementi che soddisfano quel criterio ma me ne basta uno e allora mi posso fermare alla prima la prima soluzione oppure ci sono degli altri oppure che ne so devo risolvere il problema che ne so del cubo di Rubik no? mescolare trovare sequenze di mosse che mi risolvi il cubo dato una certa posizione di partenza di sequenze di mosse possibili ce ne saranno tantissime ce ne saranno miliardi sbagliate e ci saranno qualche migliaio corrette allora mi basta trovarne una di queste mosse di queste sequenze di mosse le voglio calcolare tutte le voglio calcolare tutte e trovare quella più breve e questo dipende dal problema che ci hanno chiesto di risolvere quindi a volte basta trovare la prima soluzione a volte serve trovare la soluzione migliore quindi che minimizzi qualche metrica a volte invece serve trovare tutte le soluzioni perché magari le devo salvarle le devo elencare e quindi in questo caso andremo a modificare un pochino il modo in cui lavoriamo nel caso terminale quindi però questo è un problema che mi pongo solamente nel caso terminale perché ho la soluzione e mi chiedono ok ne hai trovata una ti puoi fermare sì ok oppure no non posso fermarmi devo andare avanti allora per andare avanti me la salvo perché ho fatto un lavorone per trovare la soluzione e adesso la voglio la voglio salvare da qualche parte non la voglio dimenticare di andare avanti ok ok questo è un pochino il nostro ragionamento e le domande che ci faremo che ci servono per implementare la ricorsione seguendo questo scheletro no quindi abbiamo una procedura ricorsiva qui entriamo più nel concreto nel pratico ok che beh riceverà certi parametri che descrivono il problema che vogliamo risolvere e però ci sarà sempre una variabile che per noi rappresenta il livello no quanto siamo andati profondi nella ricorsione quanto siamo andati avanti nella ricorsione siamo la prima chiamata la seconda la terza l'ultima no quasi sempre ci servirà sapere questo valore per sapere in quale punto della procedura devo in quale punto del problema devo lavorare dopodiché avrò la condizione di terminazione quindi fai qualcosa controlla se sono in un caro terminale in questo caso fai qualcosa e poi avrò un ciclo for un ciclo while che genera nuove soluzioni e fa la chiamata ricorsiva su queste nuove soluzioni quindi su questa nuova soluzione parziale andrà a finire in questi puntini e ovviamente questa chiamata ricorsiva sarà al livello più uno questi sono gli elementi essenziali dopodiché vedete che in questo caso ci sono un altro paio di elementi uno è qua il filtro può darsi che la soluzione parziale che sto generando sia non valida e allora non devo fare la chiamata ricorsiva può darsi che questa soluzione parziale sia peggiore di un'altra soluzione che già conoscevo se devo trovare un ottimo se devo trovare nel cubo di rubic la soluzione col numero minimo di mosse o una soluzione che ho già trovata magari che risolve in 20 mosse e se io adesso sono già a livello 21 mi posso fermare perché vuol dire che tutte le sequenze che troverò da adesso in avanti avranno un numero di mosse più lungo rispetto a quella migliore che conoscevo quindi mi posso fermare quindi posso avere tutta una serie di condizioni che però vanno analizzate di caso in caso che mi permettono di dire non vale la pena di esplorare questa soluzione parziale e quindi non faccio questa chiamata chiaramente ogni filtro che funziona avrà un guadagno esponenziale diciamo così sulla complessità ci sono qui c'è anche codice che dicevo qua all'inizio che ho indicato all'inizio ci sono magari delle operazioni da fare sempre no indipendentemente dal fatto che sia in caso terminale oppure no e vabbè ma questo lo vediamo in casi negli esempi perché magari ci sono alcuni controlli da fare sia che siamo nel caso normale sia che siamo nel caso terminale qui ho fatto l'esempio del giochino di Razzle avete presente no quell'app in cui devo trovare le parole all'interno di una griglia 4x4 ecco se io ho trovato una parola di tre lettere ok quindi magari sono a livello 3 posso controllare questa è una parola valida cioè sta nel dizionario sì no ma questo non mi permette di dire che questo sia un caso terminale perché magari questa parola può essere allungata in una da 4 allora sia quella da 3 che quella da 4 contano ok sono due parole separate due soluzioni separate ma una è ottenuta allungando una precedente quindi vuol dire che sia nel caso terminale cioè quando proprio non riesco più ad andare avanti sia nel caso intermedio quando sto componendo la parola può darsi che mi debba salvare le parole buone che incontro allora questo è un esempio di salvarsi le soluzioni che viene fatto comunque sia nel caso terminale che nei casi intermedi ma come sempre dipende dai problemi e poi l'ultimo blocco di codice qui ho chiamato backtracking dai ho chiamato backtracking che vuol dire rimetti le cose a posto cioè fai un passo indietro anche qua dipende un po' dalle strutture dati che usiamo ma il concetto è semplice nel senso che quando io faccio la chiamata ricorsiva quando io faccio la chiamata ricorsiva può darsi che io abbia aggiunto dei dati a una struttura dati ho aggiunto una mossa alla sequenza delle mosse di rubi ho aggiunto una lettera alla parola che sto cercando su razzo e così via l'ho aggiunto a una lista e poi però prima di provare la prossima soluzione parziale il prossimo tentativo questa soluzione parziale fatemelo chiamare anche tentativo proviamo le provo tutte quali sono le cose che posso provare posso provare questa 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 quest'altra quando faccio un tentativo lo metto nella soluzione parziale faccio ricorsione e poi dopo che sono tornato devo togliere dalla soluzione parziale quel tentativo che avevo fatto lo devo togliere perché poi alla prossima soluzione parziale dovrò fare un nuovo tentativo al posto di quello precedente quindi lo metto e togliere quindi se per caso nel fare ricorsione modifico qualche struttura dati ecco prima della fine di questo ciclo for vedi che sono ancora dentro questo ciclo for che analizza le varie soluzioni possibili i vari tentativi possibili devo rimettere le cose a posto in modo che all'interazione successiva dopo si vedano i dati corretti ok questo dal punto di vista generale e quindi se vogliamo come schema di ragionamento possiamo usarci o farci uno schema di questo genere ci facciamo queste cinque domande e cerchiamo di scrivere il codice corrispondente a ciascuno di queste cinque queste A, B, C, D, E che ho messo come commenti nei codici precedenti nello scherzo dei codici precedenti corrispondono a frammenti di codice diversi ecco quando noi abbiamo riempito questi cinque frammenti di codice abbiamo risolto il problema abbiamo risolto la procedura ricorsiva che volevamo che volevamo risolvere allora proviamo con degli esempi ok ad applicarlo allora prima prima dell'intervallo ci dovrebbe stare questo primo esempio semplice il più semplice di trovare tutti gli anagrammi di una possibile parola ok qualcuno ti inserisce una parola da tastiera ma diciamo così nell'interfaccia grafica e e tu devi generare stampare o generare una lista che contenga tutte le possibili permutazioni delle lettere di quella parola non li chiamo ancora anagrammi perché perché una parola sia un anagramma dovrebbe essere una permutazione delle lettere ma valida ok come vedete che la maggior parte di queste permutazioni non danno nessuna parola valida nessuna parola esistente quindi non sono parole no questo ce ne preoccuperemo dopo sappiamo che possiamo controllare in un dizionario se una parola esiste oppure no quindi il problema è generarle generiamo dato una parola tutti i possibili potenziali anagrammi quindi tutte le possibili permutazioni di quella parola ok quindi questo è il primo esercizio ricorsivo che svolgeremo nella sua versione più semplice poi nella tra qualche slide ci saranno alcuni suggerimenti su come renderlo più realistico allora detto così un pochino ci spaventa nel senso che vabbè dog ha tre parole pensate a una parola di dieci lettere come fai a creare tutte le permutazioni di queste dieci lettere vista così un po' spaventa perché ti dà la parola iniziale e la permutazione e come fai a generarle tutte allora visto così dal problema alla soluzione finale effettivamente è complicato ma la ricorsione ci aiuta e ci dice senti ma tu non devi preoccuparti di risolvere tutto il problema in un botto solo fallo un pezzo per volta fallo una lettera per volta ok quindi tu hai un problema che è permuta le lettere dog è una soluzione che contiene la parte di parola che hai già permutato all'inizio tu sei in un caso in cui hai queste tre lettere che devi mettere insieme e non hai ancora nulla della parola del tuo risultato questa stringa vuota è una soluzione parziale non è ancora una soluzione perché una soluzione deve essere fatta di tre lettere una permutazione un anagramma deve essere fatta di tre lettere parziale nel senso che vabbè cominciamo la stringa vuota poi eventualmente aggiungiamo questo è il nostro livello zero il nostro problema di partenza so tutto il problema il problema ce l'ho ancora completo non so ancora niente della soluzione beh so che dovrà essere una stringa di tre lettere ma di questa stringa non conosco ancora nulla a livello zero sono messo così o il problema completo o la soluzione vuota dopodiché la ricorsione cosa mi dice prendiamo il livello uno il livello uno è potrebbe essere un modo di impostare ricorsione e dire ok scegliamo ad ogni livello una lettera da aggiungere alla soluzione parziale quindi il mio problema è composto da tre lettere quindi potrei dire aggiungiamo la D aggiungiamo la O aggiungiamo la G cioè i sottoproblemi della permutazione di DOG sono primo sottoproblema trovare le permutazioni che iniziano con la D secondo sottoproblema trovare le permutazioni che iniziano con la O terzo sottoproblema trovare le permutazioni che iniziano con la G e quindi posso fare questa chiamata ricorsiva a una procedura che riceve già una soluzione parziale perché quando dico iniziano con la D sto già dando una proprietà della soluzione non più del problema e però ti passo un problema semplificato perché ovviamente se la D l'ho già usata non sarà più parte della soluzione scusate del problema da analizzare quindi sono sceso di un livello che cosa ho fatto mentre a livello 0 avevo un problema di dimensione 3 e una soluzione di dimensione 0 a livello 1 ho un problema di dimensione 2 quindi il problema aveva dimensione 3 adesso qua dimensione 2 la soluzione aveva dimensione 0 adesso la soluzione è a dimensione 1 quindi mi sono avvicinato alla soluzione questa D questa O questa G sono quelle che chiamiamo soluzioni parziali un pezzo della soluzione che ho cominciato a costruire nel fare il passaggio ricorsivo e questo O G D G D O eccetera sono della stessa natura cioè il problema che devo risolvere su questa seconda chiamata è lo stesso che devo risolvere prima prima dicevo devi permutare queste lettere adesso dirò devi permutare queste lettere è lo stesso problema e quindi posso chiamare la stessa procedura per risolverlo a questo punto se io mi mettessi nei panni di questa chiamata ricorsiva applicando lo stesso ragionamento dirò ok io ho un problema in cui devo permutare due lettere allora lo divido in due sottoproblemi quello che inizia con la O e quello che inizia con la G inizia ovviamente a valle della lettera che già avevo che facevo già nella soluzione parziale quindi alla soluzione parziale aggiungo la O alla soluzione parziale aggiungo la G e quindi mi creerò due sottoproblemi uno in cui il problema è rappresentato semplicemente da G l'altro in cui il problema è rappresentato semplicemente da O permuta G permuta O e per alcuni di questi problemi riceverà in dote la soluzione parziale nel primo caso ottenuta dalla soluzione parziale che avevo più la O nell'altro caso ottenuta dalla soluzione parziale più la G quindi queste soluzioni parziali sono diverse e i sottoproblemi da risolvere sono diversi a questo punto rifaccio la stessa cosa qui che cosa ho? ho un problema in cui ho una soluzione parziale di dimensione 2 un sottoproblema da risolvere di dimensione 1 uno potrebbe dire vabbè se è il problema di dimensione 1 basta che lo risolvi ma tante volte non vale neanche la pena di prendersi questo caso particolare per riconoscere che sono un passo dalla soluzione facciamolo questo passo in più tanto il meccanismo è lo stesso e allora riapplico la stessa regola e dico va bene visto che qui ho un problema di dimensione 1 generò un sottoproblema in cui inizio ad aggiungere la g provo ad aggiungere la g provo ad aggiungere la g significa che la mia soluzione parziale è il do precedente più la g che ho aggiunto adesso quindi soluzione parziale di dimensione 3 problema di dimensione 0 perché a questo punto non mi sono più rimaste lettere da permutare a questo punto sono nel caso terminale e posso mostrarti la soluzione e ho finito ho finito una delle soluzioni mi ha dato dog poi ovviamente ne ho provata una ma ciascuna procedura ricorsiva ciascuna chiamata la procedura ricorsiva dovrà poi a sua volta provare le varie strade quindi questa procedura qua che aveva due figli prima ne prova uno poi prova l'altro e quando proverà l'altro arriverà a quest'altra soluzione e così via per tutti gli altri casi ok e avrò un albero della ricorsione di questo genere questo è l'albero un problema semplice così questo è l'albero della ricorsione completo allora noi ci concentriamo anche per rispondere ad Alessandro principalmente la difficoltà principale è quella di scendere nella ricorsione parto dal problema lo decompongo e arrivo a una soluzione ok poi però una volta che ho trovato la soluzione c'è il processo inverso cioè quello in cui questa procedura ritorna al suo chiamante questa ritorna al suo chiamante e quest'altra farà una seconda chiamata ricorsiva ok e proverà altre vie quindi in pratica quest'albero qui fatemelo scrivere viene visitato in questo modo prima passo di qua passo di qua poi quando sono in fondo torno su e da qua ripasso di qua quando ho finito questo torno su entro in questo ramo entro giù quando ho trovato questa soluzione torno indietro a provare un'altra alternativa quando ho trovato questo torno indietro a provare un'altra alternativa che qui non ne ho più altre alternative quindi andrò ad altre alternative del livello 1 e così via ok questo è l'ordine con cui viene eseguito il codice ecco poniamoci il problema di questo caso qui in cui sono arrivato a questa soluzione odg poi devo tornare indietro guardate cosa succede alla soluzione parziale mentre scendo la soluzione parziale cresce ovviamente quando torno indietro questa soluzione parziale deve ripristinare il valore che aveva in precedenza ho provato a mettere la g ok mi ha dato una soluzione o no non lo so non mi interessa ma quando devo provare poi a mettere un'altra lettera quella g la devo poi togliere torno indietro e questo è cosiddetto backtracking quando faccio un tentativo qui aggiungo la d e aggiungo la g devo fare attenzione che questa g che aggiungo sia relativa alla o o più g fanno o g e la d che avevo messo la metto ma poi la tolgo quindi l'operazione di backtracking significa se ho aggiunto fatto o d per fare un tentativo prima di provare il tentativo successivo questa d che avevo messo va tolta quindi vanno rimesse in modo pulito le strutture dati in modo che quando provo un ramo separato non abbia dei pezzi di una soluzione che in realtà era di un ramo diverso ok questa è una cosa che ci dobbiamo semplicemente ricordare di fare se io aggiungo un carattere una stringa poi lo devo togliere perché poi dovrò provare ad aggiungerne uno diverso poi come lo facciamo dipende dalla struttura dati che usiamo stringhe liste mappe eccetera eccetera allora questa cosa qua in codice come si come si implementa possiamo provare a creare un nuovo progetto allora e tdp e lo chiamiamo anagram nel progetto anagram ci facciamo magari come al solito una classe model perché gli algoritmi li mettiamo dentro un package punto model per ora non abbiamo nessuna interfaccia grafica ma è facile da fare adesso ci concentriamo sull'algoritmo e dentro il package model chiamo una classe anagram ok questa è la mia classe in cui lavoro qui definirò una procedura ricorsiva che mi permette di calcolare un anagram di una parola data di una stringa data quindi sarà una public anagram chiamiamola così restituisce data una certa parola parola non si chiama in italiano l'anagramma adesso questa funzione anagramma che cosa restituisce? eh dovrà probabilmente restituire una lista di parole se voglio gli anagrammi un anagramma non è uno solo sono tanti quindi magari diciamo che voglio restituire una lista di stringhe magari allora a questo punto chiamiamo la funzione anagrammi al plurale java.util.list quindi questa è la parola è il metodo che chiamiamo dal nostro programma dal nostro controller oppure dal nostro programma di test io ti do una parola e tu mi restituisci una lista di parole questo è il nostro contratto ok come faccio? provo a implementare il meccanismo che avevo detto prima con una procedura ricorsiva che fa diciamo questo valia diciamo così pela diciamo così una lettera per volta prende una lettera per volta e la considera separatamente questa procedura ricorsiva ha bisogno di informazioni cioè io devo sapere ad esempio in questa procedura ricorsiva qual è il sottoproblema che devo ancora considerare qual è la lettera diciamo la soluzione parziale che ho già calcolato quindi questa procedura ricorsiva è più ovviamente il livello questo è il livello 0 questo è il livello 1 questo è il livello 2 questo è il livello 3 allora avrà bisogno di più valori di più parametri rispetto alla semplice procedura anagrammi quindi questa procedura anagrammi è l'interfaccia pubblica vuoi calcolare anagrammi chiama questa funzione poi in realtà questa funzione userà una funzione ricorsiva interna una funzione ricorsiva interna che lavora con più informazioni a disposizione quindi quasi sempre c'è un front end diciamo così un'interfaccia pubblica e poi una procedura interna che è quella che fa il lavoro sporco e quindi ha bisogno di una serie di parametri in più che invece la procedura generale non ha non devo esporre non devo far vedere a chi usa il sistema quindi partiamo da questa qua ricorsiva chiamiamola ricorsiva con lì ci ricordiamo che cos'è ok chiamiamola permuta chiamiamola permuta permuta le lettere allora che cosa riceve questa procedura ricorsiva abbiamo detto sicuramente riceverà il livello lo vogliamo mettere sempre per ricordarci a che livello di profondità siamo e il livello rappresenta scriviamocelo la dimensione della soluzione parziale che abbiamo costruito finora ricordiamo le domande che c'erano prima una delle domande era che cosa rappresenta il livello allora il livello uguale soluzione dimensione lunghezza è una stringa della soluzione parziale ok lo scriviamo perché magari la lunghezza più uno la lunghezza meno uno no esattamente la lunghezza quindi una procedura di livello tre io mi aspetto di avere una soluzione parziale lunga tre ok livello iniziale ovviamente sarà zero la ricordazione inizia con il livello iniziale pari a zero ok poi che cosa ha bisogno di conoscere questa procedura di permutazione beh la soluzione parziale che altro non è che una stringa se la mia soluzione totale è una lista di stringhe ciascuna soluzione parziale sarà una singola stringa e poi che cosa ha bisogno di sapere quali sono le lettere ancora rimaste ok ha bisogno di sapere quali sono le lettere ancora da considerare possiamo quindi di fatto parziale è una stringa che contiene l'anagramma incompleto in fase di costruzione e invece lettere le lettere della parola iniziale che ancora non abbiamo utilizzato che sarebbe un altro modo per dire uguale al sottoproblema che dobbiamo risolvere perché queste lettere che non abbiamo utilizzato vuol dire che non abbiamo ancora permutato quindi questa procedura permuta che cosa fa riceve siamo come questo disegno qua siamo in una di queste scatole mi hanno dato una soluzione parziale mi hanno dato un problema da risolvere e mi hanno detto arrangiati allora innanzitutto vedo controllare se sono nel caso terminale altrimenti se faccio altrimenti faccio la ricorsione quindi lo schema è sempre questo prima di fare ricorsione andiamo a vedere se sono nel caso terminale qual è il caso terminale il caso terminale è quello in cui sono arrivato qua sotto e quindi non ho più nessun problema da risolvere come faccio ad accorgermi che sono arrivato qua sotto ad esempio dal fatto che il sotto problema da risolvere non c'è più e quindi questo lo metto come commento il caso terminale è quando la lunghezza delle lettere è diventata zero mi hanno dato da permutare una stringa che non contiene niente e allora vuol dire che la soluzione parziale poiché non ci sono vincoli altri la soluzione parziale è anche una soluzione completa e quindi potrò per semplicità facciamo una print line poi in realtà dovremmo restituire una lista di string ma ci pensiamo tra un attimo system punto out punto print line di parziale ok altrimenti quindi nel caso particolare ce lo siamo tolti l'abbiamo riconosciuto quando è che sono in un caso terminale quando la la stringa per mutare è vuota avrei anche potuto dire che quando la lunghezza della stringa parziale è uguale alla lunghezza della stringa originaria questo è un altro modo ok ci saranno modi diversi per trovare le condizioni terminali altrimenti mi metto nel caso generale fai la ricorsione allora fai la ricorsione cosa vuole dire genere sotto problemi e ogni sotto problema corrisponde a una lettera di lettere un singolo carattere prendo il primo prende il secondo prende il terzo quindi la generazione di sotto problemi altro non è che prendere uno uno i singoli caratteri della parola da permutare dell'insieme di lettere ancora da permutare quindi in questo caso è molto semplice for int posizione uguale a zero posizione minore di lettera punto length lettere punto length posizione più più quindi il sotto problema è dato da questa posizione dove in pratica che cosa o che il tentativo scusate string dovrebbe essere un carattere non è altro che la il carattere alla posizione pos giusto funziona no questo qua lettere è una stringa scusate mi confondo tra un linguaggio di programmazione e un altro per estrarre il singolo carattere uso in java il charat ok per accedere a un carattere di una stringa quindi questo è il tentativo che sto cercando di fare adesso dato questo tentativo dovrò calcolare una nuova soluzione parziale e un nuovo sotto problema la nuova soluzione parziale sarà uguale alla vecchia soluzione parziale a cui aggiungo il tentativo qui in realtà non funziona ok ho una stringa più un char che mi concatena e poi invece il nuovo sotto problema lettere uguale fatemelo scrivere così togli il carattere pose da lettere punto e virgola poi ci pensiamo tra un attimo quindi sto aggiornando e quello che facciamo qua la soluzione parziale prende una lettera in più se il mio tentativo è una G alla soluzione parziale aggiungo la G e questa G la tolgo dal problema qui non c'è più la G allora quello che sto cercando di fare con queste due righe aggiungo la soluzione parziale il tentativo e tolgo da lettere dal problema il carattere di mezzo quello in posizione pose la prima volta proverò a togliere il primo posizione uguale a zero seconda volta provo a togliere il secondo sono tutti i tentativi che faccio e sono tentativi che sto facendo alla cieca e li provo tutti fatto questo io posso fare la ricorsione e quindi potrò dire a questo punto permuta se la nuova parziale il nuovo tentativo che ho modificato livello più uno in questo caso il livello non ci serve la variabile livello perché mi dice che non è più ah perché non c'è per colpa dell'istituzione precedente e qui ho finito a parte fare questa operazione perché a questo punto io questa funzione permuta viene chiamata nuovamente con a questo punto una soluzione parziale che è un pochino più lunga e un problema da risolvere che è un pochino più corto e visto che ogni volta si decrementa la lunghezza di lettere prima o poi arriverà a zero e quindi prima o poi potrò sputare quella permutazione il problema qual è perché poi risolvo questo ma prima volevo evidenziare questo problema che io qui ho modificato la variabile parziale e va bene nel senso che quando pos è uguale zero al parziale ci aggiungo il carattere alla posizione zero ma poi quando pos vale uno io dovrò aggiungere il carattere alla posizione uno al parziale precedente non al parziale a cui avevo prima già aggiunto il carattere in posizione zero questo è il concetto di backtracking di cui si parlava prima cioè io avevo una soluzione parziale che qui ho sporcato tra virgolette ho sporcato perché ci ho aggiunto dentro un valore prima di aggiungere il valore prossimo devo togliere quel valore precedente in modo che il secondo tentativo sia fatto a partire dalle stesse condizioni di partenza allora la cosa più semplice in questo caso visto che sono stringhe quindi sono facili da generare è creare una stringa diversa per la soluzione parziale che passerò a livello di più uno diversa dalla stringa che ho ricevuto se non sporco le variabili che ho ricevuto non c'è bisogno di fare quel backtracking di cui parlavamo prima se invece la sporcassi dovrei dire qua sotto rimetti a posto rimetti a posto parziale e rimetti a posto lettere questo è il cosiddetto backtracking cioè rimetti a posto parziale vuol dire togliere l'ultimo carattere rimettere a posto lettere vuol dire rinfilare nel punto in cui era prima la lettera che abbiamo faticato a togliere ok questo sarebbe diciamo così la fase di backtracking serve se ho sporcato le variabili che mi servono nelle interazioni successive per evitare di fare backtracking potrei non sporcare queste variabili parziale e lettere e usarne di nuove nel caso di una stringa non è un problema quando la soluzione parziale magari è un array list di mille elementi farne una copia ogni volta magari mi fa male in termini di efficienza e allora preferisco sporcarla e poi rimetterla a posto in questo esempio specifico non mi conviene far casino con il backtracking e allora quindi faccio una nuova parziale definisco una nuova stringa e è questa che passerò alla funzione e anche erò anche qua una nuova insieme di lettere che passerò alla funzione successiva e quindi in questo caso non ci serve il codice di backtracking ok quindi rispondo in qualche modo anche a Loris che era preoccupato del fatto che io stessi modificando una variabile lettere sulla quale stavo iterando ok in realtà non sarebbe stato gravissimo nel senso che io la modificavo l'avrei modificata ma l'avrei rimessa a posto subito dopo prima della fine del foro in modo che il foro non si accorgesse di nulla è chiaro che è una fatica in più che devo fare io modifico una variabile e la devo rimettere a posto alla fine del foro il concetto di backtracking è che alla fine del ciclo foro tutte le variabili devono essere uguali a prima tutte le strutture dati devono essere uguali a prima all'inizio dell'iterazione in modo che posso ricominciare l'iterazione successiva senza inquinare la condizione di terminazione qua e senza diciamo così senza avere dei residui di tentativi precedenti che vanno a inquinare quelli successivi ok allora ci rimane solamente più togliere il carattere nella posizione pose dall'insieme delle lettere e questo è uno di quei motivi per cui uno ama Java nel senso di odiarlo nel senso che devi fare substring quindi hai lettere punto substring substring dunque ritorno una stringa che è una struttura stringa che inizia all'indice specificato e si estende fino al carattere index meno uno quindi prendo substring da zero a pose più lettere punto substring substring da pose più uno in avanti ok ma questa è solo roba di string spero di quindi pose pose vale zero pose vale tre questa prima sottostringa contiene da zero a due e questa sottostringa contiene da quattro in avanti dovrei aver tolto l'elemento di posizione tre questa nuova parziale non avrà tre caratteri rispetto a due di prima la nuova parziale avrà un carattere in più rispetto a prima quindi all'inizio ne aveva zero poi ne ho aggiunto uno al primo livello quando il livello vale uno parziale è lunga quando il livello vale zero allora ricordiamoci che il livello nel nostro caso è sempre lunghezza di parziale a livello zero parziale contiene zero caratteri per scendere a livello uno dovevo creare una nuova parziale di un carattere quindi quella di zero più un carattere nuovo tentativo è un singolo carattere non è l'intera stringa è un singolo carattere della stringa lettere adesso lo vediamo poi in debug passo passo così vediamo cosa succede ok per far funzionare questo ad ogni livello che scendo aggiungo un carattere allora per fare questo devo ovviamente avviare questa ricorsione e per avviarla come dicevamo non mi basta solo la parola ma devo anche una parziale e un livello quindi ciò che farò sarà chiamare la funzione permuta a cui fornisco quello nelle slide si chiamava come faccio la chiamata a livello zero e devo preparare delle variabili di supporto che in questo caso sono semplicemente la stringa parziale vabbè posso anche scrivere direttamente la stringa parziale non è altro che una stringa vuota la stringa di lettere non è altro che la parola di partenza e il livello è zero questo è il modo in cui lancio la ricorsione poi qui mi chiedeva di restituire una lista di stringhe per il momento fermiamoci e non ritorniamola perché volevo provare a vedere a eseguire il programma prima del intervallo quindi il metodo pubblico in cui viene chiamata la funzione anagrammi non fa altro che preparare il livello la valista la soluzione parziale eccetera eccetera tutto ciò che serve e poi vedremo che ci servirà anche preparare la soluzione che dovrò ritornare e poi lancia la ricorsione e fa e lascia che la ricorsione lavori Manuel mi chiede se ho allungato lettere anziché accorciarla e penso di no perché se io opero una sottostringa da zero a pos meno uno e l'ho aggiunto a una sottostringa da pos più uno alla fine ho un carattere in meno rispetto a prima cioè se posizione vale cinque io ho aggiunto le lettere da zero a quattro più quelle da sei in avanti la quinta l'ho escluso quindi ho ricostruito una stringa uguale meno quella in posizione cinque quindi se non ho fatto degli errori io col substring dovrebbe essere più corta di uno anziché più lunga di uno ma lo vediamo subito adesso eseguiamo il programma se si pianta se va avanti all'infinito lo revagghiamo pose e su dell'ultimo altrimenti l'avrei ricostruita identica sì substring lo vedete qua nella definizione inizia il begin index e si estende fino al carattere all'indice and meno uno ecco questo meno uno è quello che fa sì che il carattere pose effettivamente è escluso in teoria se non abbiamo sbagliato qualcosa allora facciamo una semplicissima classe test anagramma in cui istanziamo una anagram anagram a uguale new anagram eh sì poi magari metto anche un metodo main public static void main string args aperta graffa chiusa graffa anagram ok e poi posso chiedere appunto anagrammi di dog alessandro mi dice cosa c'è dopo la riga 39 niente un po' di graffe chiuse in realtà già dopo la 35 non c'è più nulla allora proviamo a fare randi questa cosa qui incrociamo le dita perché ne va del nostro caffè guarda qua abbiamo stampato in questo caso non abbiamo fatto esattamente ciò che dovevamo avremmo dovuto restituire una lista ma questo la costruiamo per ora verifichiamo che funzioni e se anziché dog stamparsi una parola più complicata che ne so ricorsione dobbiamo 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 prevedere che sarà un pochino più lungo ma sta generando tutti i possibili permutazioni della parola ricorsione adesso non è lento così in realtà è lento perché sta stampando video se dovessi solamente calcolarlo vedrete che è molto vedreste che è molto più veloce e ci sono ovviamente tutte le possibili permutazioni ok adesso poi qua ci sono dei problemi perché ci sono delle lettere ripetute ma è un problema che affrontiamo a parte ok il meccanismo base una volta che abbiamo capito il meccanismo base su una parola semplice di tre lettere poi in realtà si estende anche a problemi più ampi mettiamo magari qualcosa di più semplice di ricorsione magari qualcosa di cinque lettere cinque lettere ne ha già sei vabbè il numero cinque che ha sei lettere eccolo qua qui ci sono tutte le permutazioni di questo ok dove per come l'abbiamo costruito in realtà la prima che trova è la parola stessa perché ogni volta prende il carattere in posizione zero poi uno poi due poi tre come vedete lui esplora prima tutte le conseguenze di aver fatto come tentativo la c quindi ok mettiamo la c e poi andiamo a vedere e allora dice dopo la c provo a mettere la i poi dopo la c provo a mettere la n poi dopo la c provo a mettere la q poi dopo la c e vedete che sono tutti i tentativi possibili avendo fissato il primo e una volta che ho cq per dire dopo cq provo a mettere la i poi provo a mettere la n poi provo a mettere la u e così via quindi la parte iniziale della soluzione parziale è sempre la stessa una volta che ho una certa soluzione parziale provo tutte le possibilità di generare di aggiungere un pezzo lavorando con le lettere che mi sono rimaste a disposizione lavorando con le lettere che sono rimaste libere e quindi sono fatte in questo modo queste soluzioni parziali compaiono in quest'ordine prima di cambiare la c ho provato tutte le conseguenze di aver messo la c quando finalmente ho provato tutte le conseguenze proverò con la seconda lettera posizione uguale 1 e allora tutte le conseguenze di aver messo la i come prima posizione e così via voglio solo farvi vedere ancora una cosa adesso ritorniamo su questa classe cosa capita se la vediamo in debug ok quindi mettiamo un breakpoint qua eseguiamo in modalità debug questo codice poi vi lascio un attimo di pausa ma per imparare a vederlo noi abbiamo qui entriamo nel metodo anagrammi dove mi è stato passato parola uguale dog io a questo punto entro nella procedura ricorsiva e sono a livello 0 purtroppo qua non riesco a ingrandire questi caratteri non mi funziona l'ingrandimento qua spero che si riesca a leggere quindi lettere è parziale la lettere sono dog e parziale è vuoto la stringa vuota lettere punto length uguale 0 no perché lettere ha lunghezza 3 e quindi posso andare avanti fa il ciclo for sulle varie lettere quindi la prima che prova è prendere la lettera tentativo la D che è la prima lettera di dog a questo punto si costruisce la nuova la nuova soluzione parziale che è la D e costruisce il nuovo problema nuovo lettere che è OG ho tolto la D e poi faccio la chiamata ricorsiva io entro dentro la chiamata ricorsiva guardate qua io ho tutte le variabili della mia funzione quando faccio la chiamata ricorsiva queste variabili scompaiono o meglio se ne presentano delle altre nuove e qua sulla sinistra quando ho la chiamata a funzioni vedo che al momento sono dentro la funzione permuta che è stata chiamata dalla funzione permuta del livello 0 quando io clicco su una di queste funzioni vedrò le variabili di quella funzione quindi vedo che questa variabile qui è ferma alla riga 35 cioè sulla chiamata ricorsiva e il suo livello era 0 questa qui dove sono io adesso in realtà sono fermo alla riga 21 di una chiamata di livello 1 che ha un parziale di D e un problema OG vado avanti il primo tentativo che farò sarà il primo la prima lettera del sottoproblema che ho io quindi il sottoproblema di livello 0 rimane in attesa fino a quando io non risolvo il sottoproblema di livello 1 e il sottoproblema di livello 1 rimarrà in attesa fino a quando non risolverò il sottoproblema di livello 2 quindi a questo punto sto per fare una nuova chiamata ricorsiva con Do come parziale e G come problema da risolvere se entro dentro anche qui non sono ancora nel caso terminale lettere a lunghezza 1 quindi in realtà contiene solo la G questo ciclo for farà un'iterazione sola è obbligato a avere una parziale che è la G che è l'unica che gli è rimasta e una nuova lettere è vuota entro dentro e vedete che qua a questo punto ho quattro chiamate ricorsive livello 3 livello 2 livello 1 livello 0 tutte sono ferme alla riga 35 cioè sulla chiamata ricorsiva tranne l'ultima che è quella realmente in esecuzione quella del livello 3 dove a questo punto mi trovo effettivamente nel caso terminale allora eseguirò questa print per il momento l'abbiamo messa lì tanto per vedere qualche cosa poi qua dovremmo costruire la lista dei risultati in realtà e quindi posso finalmente uscire dalla funzione quindi quando esco da questa funzione uscirò dalla funzione di livello 3 e mi ritrovo qui è scomparsa una delle quattro chiamate mi ritrovo nella funzione di livello 2 pronto per fare la prossima iterazione ho finito permuta e farò la prossima iterazione in realtà la prossima iterazione non c'è a livello 2 perché lettere conteneva una lettera sola e quindi anche qui dal livello 2 esco e torno a livello 1 a livello 1 pos valeva 0 mi predispongo per fare l'iterazione con pos uguale 1 adesso e quindi vuol dire che proverò la seconda lettera cioè la g e vado avanti così quindi entro dentro entro dentro quando trovo la soluzione poi via via torno indietro e quando torno indietro possono capitare due cose o a quel livello in cui sono tornato indietro ho già esaurito tutti i tentativi possibili allora tornerò ancora indietro oppure a quel livello in cui sono tornato indietro ci sono ancora dei tentativi da provare pose ancora minore di lettere punto lente allora in questo caso proverò gli altri tentativi quindi riscendendo su altri rami prima di risalire indietro al livello precedente tutto questo meccanismo si ferma quando? ebbè si ferma quando la procedura di livello 0 di livello 0 a sua volta finirà il suo lavoro e ritornerà al chiamante il quale chiamante adesso è la procedura pubblica l'anagrammi pubblica e qui si termina si va avanti poi col programma ok allora io mi fermerai qui prima di andare ancora a aggiungere due cosette sulla soluzione per fare un po' di pausa nella pausa vi faccio subito il commit di questo codice così se qualcuno vuole dare un'occhiata lo può prendere direttamente poi da github e noi riprendiamo tra 15 minuti se vi va bene quindi alle 10.40 le domande su gith le rispondo via chat durante l'intervallo per ora interrompiamo la registrazione così ci prendiamo un po' di pausa e nel frattempo avete modo di meditare su questa complessità a cui vi ho costretto questa mattina è